Mi aspetto che per la prima volta si prenda atto di un bel risultato che serve anche a costruire un'alternativa in Europa perché noi siamo europeisti però un po' il Sud ha pagato rispetto alle scelte dell'Europa in questi anni cioè un po' dobbiamo dire con chiarezza che c'è stata una politica europea negli ultimi tempi che ha privilegiato più le aree del nord Europa e ha penalizzato quelle mediterranea, la Spagna, la Grecia, l'Italia la Sicilia ha pagato prezzi altissimi in questi anni e soprattutto pagano i lavoratori una politica solamente deflazionistica che serve a proteggere l'euro, il rapporto di campi euro-dollar non può andare così dobbiamo cominciare invece a puntare sul lavoro e sull'occupazione